Buonasera, qui al Memorial Marco Iovini si sfidano Garage, Vecchie Glorie per la partita vento fuori, playoff. In questa seconda serata di questo settimo Memorial, Marco Iovini, vediamo le squadre. A sinistra il Garage, il Magliador, Marco il numero 4, a destra in bianco, Vecchie Glorie, dedicato tutto a Marco Iovini, questo ingresso, tanti di questa manifestazione che ci delizierà fino alla finale, è tutto pronto per il fischio d'inizio. Un po' di silenzio. Paolo Pugliese, intanto Bucci, nuovamente per Schiavone. Palla per Vaselli che fa la testa, c'è il Castinelli, sono due, bene Vaselli che di prima attenzione la dà per Bucci, c'era il vantaggio che non si confidizza per chi la manda fuori Bucci. Occasione per il Garage. Vabbè fatto in mezzo il tiro di Bucci, finisce fuori. Gira ancora Daniele, compagno. Corri in avanti, intercettata bene da Vaselli che cerca fortuna sulla fascia, riesce a tarla in mano, attenzione c'è un fallo di mano. Viene chiuso intanto Schiavone, c'è la mano che vale, calcio di rigore. Stinellis, la battuta, il figlio è il gollo del vantaggio Garage con dedica puntualissima. 1-0 per la squadra in Maglia Oro. Palla che gira a favore del Garage, adesso la palla verso Rocchetti, buon giro, buon'occasione per il Garage. Undecissimo venuto e mezzo di gara. C'è ancora Vecchie Gloria che prova da lontano, ci arriva, mette in calcio d'angolo, Schiavone, tentativo. Si riparte dalla Vecchie Gloria, proprio dura una razione di gioco, il sesso ancora dalla parte opposta. Strappata la palla da Bucci, ora prova a salire Stinellis, il tiro forte, grello di Stinellis sotto il set. Altra dedica, 2-0 Garage al quattordicesimo, un minuto di gioco e mezzo. La ministra torna la palla dal mittente dietro, Schiavone. Da Maselli, Stinellis, forte. Ventano i giri intanto all'ancora per Maselli che fanno correre gli avversari. Abbiamo venuto il garage, intanto in questione c'è un piccolo errore, la palla alta. Il gol di Miciulla che accorcia le distanze, 2-1. Intanto viene ribattuto. Da Schiavone, Stinellis intanto sale, scarta l'uomo, può provare la punta da lato. Alla sinistra il portiere è fuori, quindi a termine. Poi intanto adesso c'è un buon anticipo di Vecchie Gloria che sale. Adesso disturba Rum, arriva fin sotto, cerca il compagno. Anche Maselli va a disturbarlo. Secondo di gioco, c'è il primo tempo che si conclude. 2-1 a fuori del garage, doppietta di Maselli. È accorciata in distanze da Miciulla. È poco per la ripresa. Provare nuove iniziative, intanto ottima la chiusura. Fallo, il calcio d'angolo. Palla dietro per Bucci che... Vai dietro. Bucci ancora il tiro forte! Fuori, sturbato anche da... Interestazione di Cipriani. Ora sale con i due pugliesi. Ancora la palla scucchiaiata alta. Pochi denti da parte della Vecchie Gloria in questo secondo tempo. Intanto Stinellis bene, si scarta pugliesi. Arriva tu per tu col portiere. La sua puntata di destro è letale. La conosciamo bene. È il 3-1 del garage su Vecchie Gloria che lunga il 32esimo minuto. Adesso ancora prova a salire con Pugliese sempre. Adesso le due, imparziale. Paselli e Sostinellis a tu per tu col portiere. La palla ancora dove Pugliese arriva e gliela porta via. Capisce tutto. Ancora una volta adesso a tu per tu col portiere. Il tiro e il gol del 3-2. Grazie alla ottima azione pugliese. Accorcia le distanze del Vecchie Gloria. 3-2. È il risultato. Sempre il garage più sicuro di due distanze a favore. Vaselli ancora appoggia il filtrante verso Bucci che la dà bene. Attenzione, prova il tiro. Gran gol. Tirocchetti che mette a sacca la sinistra del portiere. 4-2 per il garage al 34esimo. 35esimo minuto. Ancora anticipato Vaselli. In due il tiro. Parato però la miciulla. Intanto fa scorrere tempo con passaggi in difesa. Intanto adesso fallo secondo l'arbitro su Vaselli da parte di Pugliese. Scorre il tempo il garage che ha un minuto e 20 secondi prima del recupero. Bucci la palla filtrante giusta. La palla per Attenzione, Rocchetti. Ottima, geniale passaggio di Bucci per Stinellis. Poi è mancato il tocco di Cipriani. Per Stinellis. Adesso metterà sul destro. La palla arriva. In qualche modo a Cipriani che mette a segno all'angolino dalla parte opposta. Il 5-2 proprio allo scoccare dell'ultimo minuto di gioco. Adesso Pugliese allarga dove non può arrivare però. treplice fischio da parte dell'arbitro garage che chiude la seconda gara con la sua prima gara con una vittoria per 5-2. Passa al turno successivo. Abbraccio ovviamente dedicato allo spirito di questo Memorial. Marco Iovini. Ora ci godiamo i fuochi nella seconda partita. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.